Ancora una volta ci si rivolge ai 21 parlamentari appena eletti affinché blocchino l'iter autorizzativo della centrale di compressione del gas da realizzare a Sulmona. L'appello parte nuovamente dalle associazioni ambientaliste WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Marevivo, Federazione Pronatura, FAI, Club Alpino Italiano, Mountain Wilderness e Ambiente e Vita. Questa mattina i rappresentanti delle associazioni che tra l'altro fanno parte del più ampio movimento transregionale Noab del Gas che ha organizzato la mobilitazione del 21 aprile a Sulmona sono tornati a ribadire che un governo in carica per gli affari correnti, quello diretto da Gentiloni, non può affrontare un tema così delicato che vede l'opposizione anche di cittadini e istituzioni regionali. Quest'opera non è assolutamente voluta dai cittadini, dalle popolazioni locali, non è voluta dai cittadini della Valle Belligna alla centrale di compressione, non è voluta dagli abruzzesi il medano d'otto. E lo dimostrano le numerosissime adesioni che si sono avute per la manifestazione che il 21 aprile si terrà appunto a Sulmona. Un'opera che va in direzione diametralmente opposta rispetto a quello che è richiesto da tutte le norme comunitarie riguardo alla necessità di andare a valorizzare quelli che sono tutte le fonti rinnovabili e non i combustibili fossili. Un'opera che ci riporta indietro di tantissimi anni. Dalla manifestazione del 21 ci aspettiamo che la voce corale di tutte le popolazioni, non solo locali ma anche di altre regioni che si uniranno a noi, diranno tutti insieme no, no a quest'opera e ci aspettiamo che i parlamentari, così come oggi diciamo nel nostro appello, ascoltino la voce, la voce dei cittadini uniti.